Buongiorno a tutti, sono Elena Modio ed oggi vi vorrei presentare le funzionalità dell'applicazione Prezzi. Prezzi è un programma di presentazione online che permette di creare queste presentazioni grafiche online. Questa è la schermata iniziale di questa applicazione, per registrarsi bisogna registrarsi obbligatoriamente, però permette comunque tre tipi di iscrizioni, di cui tre sono a pagamento e una è gratuita. Le tre applicazioni a pagamento permettono però di utilizzarle per 14 giorni in modo gratuito, come possiamo visualizzare qui, ci sono questi 14 giorni di prova e poi in seguito c'è il pagamento. Per registrarsi andiamo su Login, dove qui dobbiamo registrarci obbligatoriamente con la nostra email e la nostra password. Dopo esserci registrati, entriamo nella pagina iniziale dove troviamo i nostri prezzi, ovvero le nostre applicazioni già composte. Se lo esplora troviamo invece delle presentazioni già presenti in questo programma, dove possiamo magari prendere spunto o altre cose simili. Qui troviamo dei trucchi e delle strategie di presentazioni, dei modelli che possiamo riutilizzare e altri modelli dove vado a scoprire per prendere spunto. Su Guido e supporto possiamo magari chiedere delle informazioni a riguardo, ovvero se nel caso in cui avessimo dei problemi possiamo porre delle domande in questo angolo di questa applicazione. Per creare invece una presentazione andiamo su I miei prezzi e qui troviamo Crea un nuovo prezzi, qui ci sono già delle presentazioni che abbiamo già sviluppato. E quando entriamo su Crea un nuovo prezzi possiamo posizionare degli elementi testuali, grafici e multimediali da presentare in un unico piano. Questa applicazione è comunque molto utile perché sostituisce magari ad esempio tutte le altre applicazioni che sono più difficili da utilizzare, invece questa è un'applicazione molto facile da utilizzare anche perché comunque abbiamo dei guide e dei supporti da utilizzare. Qui possiamo trovare dei filtri, troviamo tutti i prezzi, ovvero tutte le presentazioni che abbiamo creato noi, qui creato da me e condiviso con me. Se noi dovessimo condividere una nostra presentazione potrebbe essere, viene resa pubblica a tutte le persone che comunque visualizzano questo sito. Qui possiamo creare delle nostre cartelle personalizzate dove inserire tutte le nostre presentazioni. Spero che questa applicazione vi sia stata utile e vi ringrazio e arrivederci. Grazie a tutti.